Ciao mamma e papà, qualche giorno fa abbiamo scoperto le differenze tra una calta antiscivolo e l'inimitabile softsole di Bobux per i bimbi che vanno al nido. Ma i bimbi invece che vanno alla scuola dell'infanzia, che cosa devono indossare? Sempre più scuole stanno domandando una scarpa da interno ma con la suola, motivo per cui Bobux ormai un paio d'anni fa ha creato un nuovo modello, ossia le indie. Cosa differenzia quindi le softsole dalle indie? Le softsole ormai le conosciamo come le nostre tasche, sappiamo dell'elevata qualità dei materiali, che sono totalmente in pelle, estremamente flessibili e che la suola in nabu che le rende la pantofolina perfetta per l'interno di casa. Come sono invece le indie? Le indie è una vera e propria scarpina con la suola, leggerissima perché è in canvas, flessibilissima come solo Bobux sa fare e un velcro che la rende molto molto facile da inserire e togliere anche dalle manine più piccoline. È una scarpina che il nostro bimbo può indossare dalle 8 del mattino alle 4 del pomeriggio per tutta la permanenza a scuola perché la suola in gomma la rende una perfetta scarpina anche per l'esterno. Ecco perché le scuole stanno richiedendo una scarpa con la suola, per permettere una continuità interno e esterno della struttura. Sempre più scuole infatti hanno una pavimentazione, un giardino dove i nostri bambini possono passare le giornate più calde. Ecco che allora il nostro bimbo non deve stare a cambiare le scarpine, ma può indossare la sua scarpina preferita e leggerissima e adatta a qualsiasi tipo di movimento che seguirà il piede in tutti i suoi movimenti sia all'interno che all'esterno della scuola. Ovviamente disponibili in negozio e sullo shop online, non vi resta che scegliere la scarpina che preferite.